Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in questo nuovo video. Direttamente dai distributori di Battipaglia ragazzi, cari amici di Biavai24 mi hanno inviato questo enorme pacco. Ragazzi ci sono tantissime sorprese che nemmeno voi vi aspettate. Io ringrazio veramente di cuore il caro Simon per avermi offerto tutta questa roba per Natale. Ci saranno molteplici contenuti che voi nemmeno vi aspettate. Guardate che grande questo pacco ragazzi, mi raccomando non dimenticate che utilizzando il mio codice sconto sul sito worldandwayamerica.com riceverete il 10% di sconto su tutto il catalogo Monster e davvero tantissimi prodotti nuovi e assurdi aspettano solo voi. Apriamo questo pacco e vediamo cosa si c'era al suo interno. Ragazzi guardate quanta roba! Come vi ho già detto non solo lattine di Monster ma altri prodotti strepitosi che mi aiuteranno a spaziare su nuovi contenuti. Abbiamo infatti le patatine Doritos e Cheetos in tre gusti particolari. Non manca un dolcissimo snack Reese's veramente particolare e soprattutto ragazzi le nostre lattine di Monster. Abbiamo una Mixed Punch in versione Apex con la linguetta nera. Una Black Monster veramente particolare, questa dalla Russia ragazzi. La Apex italiana che tanto mi mancava e che cercavo da diverso tempo e per concludere in bellezza con una Monster canadese, una Ultra Blue ragazzi. Veramente molto molto bella. Veramente tantissimi magnifici prodotti che ci aiuteranno a portare nuovi contenuti per il canale. Ringrazio veramente di cuore il Biabai24. Link in descrizione. Mi raccomando utilizzando il codice Tuccio Energy avrete il 10% di sconto su tutto quanto il catalogo Monster. Quindi se siete alla ricerca di lattine particolari come quelle che abbiamo visto oggi mi raccomando affrettatevi perché ci sono veramente dei prodotti unici. Detto ciò io concludo qui questo video. Mi raccomando lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!